buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 18 maggio 2023 è il giorno dopo la tempesta il giorno dopo il nubifraggio il giorno dopo di tutti i danni che si sono creati in questi ultimi giorni per quanto riguarda il maltempo che ha imperversato su tutta la regione ma in modo particolare sulla provincia di pesaro urbino vediamo come poi i giornali riportano le notizie ci sono molti molti danni e molte lamentele anche e molti progetti da eseguire per evitare che questo si ripeta ancora vedremo quello che dicono i giornali intanto noi passiamo per l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi e oggi è san giovanni primo papa papa governò la chiesa a partire dal 523 siamo in epoca bizantina ormai l'impero d'occidente aveva passato le mani a quello d'oriente ed era costantinopoli ovvero bisanzio la città leader dell'impero di allora fu il primo pontefice che fece un viaggio a bisanzio dove fu ricevuto con tutti gli onori dall'imperatore giustino ma poi di ritorno in italia fu trattenuto a ravenna da teodorico e qui fu maltrattato tanto che morì per i maltrattamenti subiti Giovanni primo papa un personaggio la cui salma poi il cui corpo fu trasportato a Roma e ora si trova a San Pietro le previsioni del tempo sono in legge cauto diciamo così miglioramento le condizioni meteo cercano un po' di rasserenarsi ad eccezione di residui e piogge nei settori centro meridionali e nei sibillini insomma ora si sembra che il maltempo si ancora tardi nel sud delle marche sulle coste i venti ispireranno con una tensione media da nord-est nell'entroterra da est-nord-est le temperature sono un po' stazionarie sono variate da poco di poco rispetto alla giornata di ieri e le minime sono di 14 gradi le massime 18 un grado in più rispetto a quello di ieri insomma il tempo si cerca piano piano di migliorare quindi anche la temperatura si alza di poco il mare però continua a essere molto molto mosso ed ora diamo un'occhiata appunto a quello che ci riportano i giornali a partire oggi dal resto del Carlino abbiamo una una cospicua relazione per quanto riguarda il maltempo spiagge martoriate dalla tempesta inghiottiti 160 ombrelloni ma diamo un'occhiata anche la prima pagina del Carlino Marche e vediamo qui l'assetto delle spiagge tempesta sul turismo spiagge invase da detriti attrezzature divelte insomma poi metri e metri quadri di spiaggia mangiati dall'erosione veramente i concessionari sono stati sottoposti ad un terribile sforzo per ripristinare quello che è stato danneggiato e il resto del Carlino ci propone un viaggio nel quartiere di Loreto travolto dal Genica i negozianti tutto da buttare un disastro a Senigallia un'altra notte di paura per la piena del Misa a Serra San Quirico crollano addirittura le mora sono le mura di Rosora anche che hanno subito sono mura storiche che hanno subito un crollo per un tratto di 30 metri vediamo qui appunto questa immagine emblematica con i bagnini che sono già al lavoro per cercare di riparare quanto è stato distrutto allora torniamo nelle pagine interne spiagge martoriate dalla tempesta inghiottiti 160 ombrelloni decine di metri di arenile divorati dalle onde sarà difficile poi recuperarli e ai lati del torrente Genica i bagnini danni enormi siamo ovviamente a Pesaro sparita la spiaggia destra e sinistra del torrente Genica una devastazione questa dovuta al mare in tempesta e anche alla montagna d'acqua trascinata ieri dal torrente che sfocia nel mare il quale non riusciva più a ricevere e per la prima volta il Genica nonostante fosse un torrente tombato nella città di Pesaro ebbene l'acqua è fuori uscita e il sindaco Matteo Ricci ha espresso anche la sua meraviglia perché veramente questa è una cosa che non era mai accaduta da quanto il torrente è stato interrato travolti dal Genica i negozianti di Loreto i danni sono enormi tante le auto fuori uso e qui appunto continua il viaggio nei quartieri più colpiti dall'alluvione di martedì merce e attrezzature da buttare via qui è stato un disastro vediamo qui diverse testimonianze dai negozianti che evidenziano come i loro ambienti sono stati invasi dall'acqua danneggiando mobili, attrezzature e tutto quello che serviva per il loro lavoro giriamo ancora la pagina siamo nel Fanese il dramma del ristorante Ciavarini in zona Carignano ristorante allagato per l'ennesima volta non parlatemi di fatalità ha detto il proprietario di questo ristorante Ciavarini ebbene non è la prima volta che accade nell'ultimi dieci anni il ristorante è stato sommerso dal fango per sei volte e quindi non bisogna dire che non fosse a rischio e quindi si chiede perché le autorità non sono intervenute per arginare la furia del torrente quando questo si ingrossa ebbene il ristorante è stato lasciato alla mercè dei disastri ambientali e anche questa volta è andato sott'acqua ha bisogno che l'ente preposto pulisca l'alveo del torrente Arzilla che negli ultimi dieci anni ha sommerso di fango il suo ristorante almeno sei volte parla così Filippo Ciavarini titolare dell'omonimo locale noi siamo in questa casa da 300 anni ha detto Filippo siamo nati come mugnai ed è ovvio che nei primi dell'Ottocento i mulini fossero alimentati da energia idrica e quindi fossero vicini ad un corso d'acqua ad un torrente ma allora però i torrenti non esondavano eppure non c'erano tutti i sistemi tutte le procedure, tutti i macchinari che ci sono oggi oggi invece nonostante il progresso della scienza e della tecnica il torrente esonda e quindi ha più ragione di fare il suo corso rispetto all'imbrigliamento che dovrebbero fare gli uomini e questa insomma è una deficienza della nostra epoca flagellate le spiagge, strade, bollettino nero Mondolfo chiede allo stato di emergenza intanto rincasa una famiglia sfollata nell'elenco dei danni causati in tutta la Val Cesano dal maltempo vanno annoverati anche quelli ingenti che hanno sofferto le spiagge di Marotta si aggrava intanto il bollettino riguardante la rete viaria il mare grosso ha eroso ghiaia e sabbie da tutte le spiagge riversando sulle stesse anche una grande quantità di legname e di detriti che poi costerà molto rimuovere il tutto nessuno dei 5 chilometri di costa marottese è stato risparmiato ma la fascia più colpita, quella più erosa diciamo così è quella in corrispondenza dei bagni Riccardo, dei bagni Alberto e Cesare e dei bagni Franco che è proprio la zona in cui è stato previsto per l'autunno prossimo il ripristino delle scogliere sul fronte viario alla chiusura già da martedì della strada provinciale 111 Tarugo a Pergola si sono aggiunte ieri diverse vie per esempio è stato introdotto un senso unico alternato sulla strada provinciale 5 Mondaviese per uno smottamento e sulla provinciale 16 Orcianense all'altezza di Montemaggiore per l'aggravamento di una frana resta chiusa al momento anche la strada Caprile tra San Lorenzo e Fraterosa con le strutture comunali ancora impegnate per liberare le vie secondarie ebbene così come a San Costanzo dove squadre e mezzi lavorano per parecchi chilometri per liberare parecchi chilometri di strade dove rimane chiusa un tratto di via Sicilia mentre è stata riaperta la strada dei Tufi e sempre a San Costanzo è previsto per oggi il rientro in casa di una famiglia evacuata dalla propria casa da via del Bagnolo martedì mattina e procediamo nel enumerare i danni che si sono verificati a causa del maltempo vediamo un po' nel nord della provincia crolli nei centri storici danni a macerata Feltria e rischi di isolamento a Monte Grimano Terme molti tratti sono a senso unico alternato è difficile valutare al momento le perdite economiche non ci sono per fortuna persone in pericolo appello le strade passino all'ANAS perché la provincia non riesce più a sostenere l'onere per la cura e la manutenzione e vediamo qui più che leggere le parole diamo un'occhiata alle fotografie vediamo il crollo che si è verificato nella zona medievale purtroppo di Macerata Feltria quindi se ne va un pezzo di storia della nostra provincia e poi vediamo ancora qui delle strade franate completamente erose dall'acqua ancora dissesti in questo punto e qua la vegetazione che ha invaso un po' tutti i torrenti tutti i corso d'acqua e anche una ciclabile tra Casinina a Casinina e poi una frana a Sasso Corvaro insomma veramente la situazione è molto molto grave e intanto però riaprono le scuole riaprono le scuole questa mattina sia a Fano che a Senigallia Senigallia ha vissuto anche una notte di paura perché il Misa era lì per tracimare il Misa è un torrente che purtroppo l'esperienza ci insegna molto molto pericoloso è placido e tranquillo durante le giornate serene ma sa diventare molto pericoloso quando piove e piove assai come nei giorni scorsi il Misa infatti è tornato a salire poi la pioggia da tregua ecco il titolo di questo articolo con quella appena trascorsa sono 24 le giornate di allerta vissute dal primo gennaio quest'anno rientra una casa anche gli 11 sfollati iniziano le operazioni di polizia della spiaggia invase da detriti e questo è quanto dice il resto del Carlino ma restiamo sul mal tempo così per vedere anche il Corriere Adriatico sulla pagina della Regione un titolo riassuntivo un'allerta continua in guardia per i fiumi Bolino Arancione ora per il sud delle Marche mentre rimane giallo per quanto riguarda il nord e nei giorni scorsi invece le cose si erano capovolte in un solo giorno la pioggia caduta in due mesi del 22 pensate quanto intensa è stata la pioggia che ha colpito il territorio nella giornata dell'altro giorno disdette per gli chef stellati e spiagge invase da detriti sono i danni economici che si stanno verificando e per quanto riguarda il primo piano della pagina pesarese vediamo che si parla di un primo bilancio il danno è la beffa l'acqua è perduta ebbene è l'acqua degli invasi che poteva costituire una buona risorsa idrica per la siccità estiva ma anche questa se ne è andata ha dilavato e il sindaco Ricci se la prende con l'Enel per quanto perduto nell'invaso del furlo non ripulito e intanto però riaprono anche a Pesalo le scuole numero e mail per chiedere i risarcimenti leggendo questo articolo sulla panoramica sulla panoramica si sono verificate sul San Bartolo di Pesalo tante tante frane slalom tra frane e cantieri intitola il titolo per i residenti e i commercianti c'è anche l'incubo dell'isolamento perché poi quando le strade sono interrotte non si passa intanto sono state evacuate quattro famiglie e tre case sono isolate dalle frane le emergenze in modo particolare hanno colpito la zona tra l'autostrada e a Monte Ciccardo strade chiuse si allunga l'elenco da 52 sono diventate 57 compresi i tracciati percorribili a senso unico intanto sono state mobilitate 15 aziende private per concorrere all'opera di sgombero per liberare queste strade dal fango e dall'acqua ed è stata riaperta l'autostrada in direzione nord vediamo in particolare qualche provvedimento nuovi sensi unici alternati sono stati istituiti a causa del maltempo per esempio la numero 5 Mondaviese la numero 46 per Monte Grimano la numero 128 per Monte Grimano San Marino questi sono sensi unici e poi chiuse invece la strada provinciale 68 per Monte Guiduccio la strada provinciale 67 per San Donato di Taviglione mobilitato tutto il personale tecnico operativo dell'ente locale per cercare appunto di correre ai ripari una sessantina di Frane circa la metà circa una metà era già stata sistemata ieri e poi la pioggia caduta nella notte tra martedì scorso e ieri ha provocato l'esondazione del rio secco a Ponte Murello al confine tra Carrara di Fano e Lucrezia di Cartoceto intorno a luna l'acqua piovana mista fango ha invaso parte anche della Flaminia insomma sono state veramente dei momenti molto molto terribili per le persone e poi vediamo le altre notizie che ci dicono che ci propongono i giornali questa mattina abbiamo lasciamo il resto del calino perché il resto del calino questa mattina parla per la nostra provincia del maltempo ma così fa anche per le altre province anzi no ci sono anche degli articoli di cronaca infatti ve le voglio segnalare smascherato un palpeggiatore seriale tocca le ragazzine la spike cam l'incastra si tratta di un 51enne pesarese che ha molestato prima una ragazzina di 14 anni e poi una ragazzina di 12 pensate le ha palpeggiate nelle parti intime la ragazzina spaventata ha raccontato tutto prima a scuola poi ai genitori e l'uomo è stato denunciato l'imputato è un pesarese originario di Foggia che è difeso dall'avvocato Luciano Piselli che ha scelto il rito abbreviato e poi ancora reati sessuali affano questa volta uno stupro una trentenne patteggia e risarcisce era accusato di averla violentata a una festa in casa di amici lui è un ragazzo trentenne originario del Brasile e ieri ha patteggiato due anni di reclusione alla vittima ha pagato 20.000 euro di risarcimento danni e tutto si è verificato il 19 giugno del 2021 in un bar di Fano è lì che lui ha docchiato la ragazza e poi tutto è continuato nel modo insomma in cui uno può tranquillamente immaginare e allora ora continuiamo a leggere il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico vediamo anche qui l'articolo che riguarda il doppio processo per il reato sessuale compiuto dal 51enne pesarese palpeggia due ragazzini per lui un doppio processo e poi vediamo invece un imprenditore che finanzia parte del biglietto per visitare la Sonosfera la Sonosfera Family un imprenditore visionario lancia la Sonosfera Family si tratta di Vittorio Livi che paga 6 dei 7 euro necessari per visitarla meravigliosa portateci i bimbi e il suo appello e quindi anche il fatto che la si può visitare quasi gratis pagando solo un euro incentiva ancora di più il pubblico per fare questa bella esperienza attenzione all'asta vengono posti dei disegni bellissimi di due artisti che hanno fatto la storia dell'arte della nostra provincia e sono Federico Barocci il grande pittore urbinate e sono anche Cantarini il pesarese colui che è nato nel corso di Pesaro e purtroppo è vissuto in maniera un po' burrascosa tant'è che alla fine è morto con una morte un po' violenta della quale ancora non si è tracciato l'esatto andamento insomma non si è capito se è stato ucciso non è stato ucciso se è morto per malattia oppure per avvelenamento insomma c'è tutto un mistero che ruota attorno al Cantarini ebbene ci sono diversi diversi disegni che vengono messi all'asta le opere protagoniste della prima sessione di Gonnelli casa d'aste una casa di Firenze l'incanto si tiene si tiene a Firenze e tra gli oggetti preziosi messi all'asta anche alcune acqueforti appunto di Delbarocci e di Simone Cantarini insomma è una buona occasione anche per la nostra provincia per acquistare queste opere d'arte veniamo ad Urbino Gambini sostiene la discarica l'ha dichiarato a Canavaccio ebbene questa discarica di riceci è sempre in mezzo al dibattito tra gli ambientalisti e quelli che magari la vogliono istituire gli ambientalisti ovviamente non la vogliono il sindaco si è lasciato così scappare qualche parola in più che viene interpretata in un certo modo mentre il sindaco dice aveva un altro senso comunque questa volta è Gianluca Carrabs l'ambientalista che dice no Gambini ha detto che quella discarica si deve fare e quindi lui non è contrario alla cosa mentre poi il sindaco ha detto no non è vero insomma il problema continua a essere dibattuto e poi vediamo ancora la pagina di Fano sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata all'ASET e all'ASET per quanto riguarda l'introduzione della tariffa puntuale nella città di Fano dopo che questa è stata sperimentata nella città di San Costanzo con un esito abbastanza favorevole però introdurla a Fano è un'altra cosa dice il presidente Paolo Reginelli San Costanzo è un comune con una popolazione il cui numero è abbastanza contenuto introdurla a Fano la terza città delle Marche con 60.000 abitanti comporta un provvedimento molto più elaborato molto più sostanzioso e quindi bisogna avere un po' di giudizio secondo il presidente comunque l'ASET non è contraria alla tariffa puntuale anzi dice noi siamo pronti ad introdurla però sappiate che occorre la sostituzione di tutti i cassonetti che sono nelle isole ecologiche e sono la bellezza di 2.000 cassonetti e la cui sostituzione costa 3.000 euro ognuno e quindi il tutto comporta una spesa di 6 milioni di euro poi c'è ancora un milione in più per quanto riguarda le spese accessorie e quindi sono 7 milioni che finiranno con il gravare sulle bollette degli utenti va bene che poi uno risparmia perché conferisce e paga la bolletta secondo la quantità dei rifiuti conferiti allo smaltimento però all'inizio insomma la bolletta subirà certamente degli aumenti comunque tutta l'ultima parola spetta al Consiglio Comunale infatti nella prossima seduta c'è una mozione presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sostenuta anche da Giovanni Clini del Partito Democratico e quindi la civica assise dovrà decidere se procedere in questo senso oppure mantenere la raccolta attuale e poi vediamo ancora sta per terminare Fano Gastronomica quell'iniziativa assunta dall'assessorato al turismo per valorizzare innanzitutto la ristorazione fanese ma anche per indurre ad una maggiore collaborazione tra la ristorazione e la flottiglia peschereccia locale sì perché Fano Gastronomica ha dei parametri precisi i ristoranti che aderiscono devono innanzitutto servire del pesce strettamente acquistato dal mercato locale quindi i pesce dell'Adriatico e poi nel loro menù devono inserire almeno due piatti che fanno parte della tradizione culinaria fanese e hanno aderito dieci ristoranti la finale si svolge questa sera alle ore 20 al ristorante Galeone in piazzale Amendola e intanto il Corriere Adriatico ripropone il restauro della fontana della fortuna a Fano uno degli emblemi dell'immagine cittadina è una fontana che è stata realizzata durante il rinascimento una fontana molto bella che insomma rappresenta l'immagine di Fano in quanto ritrae la fortuna e Fano nasce proprio dal tempio della fortuna dall'antica Fanum Fortuna e ora ci sono ulteriori stanziamenti aggiunti a quelli preventivamente messi a disposizione sono nuovi 80 mila euro che saranno messi a disposizione per realizzare questo progetto i lavori dovrebbero iniziare nel prossimo autunno stiamo in conclusione alcune titoli in rapida successione passaggi il concorso passaggi il festival il concorso nazionale vinto da un fumettista ventenne si tratta di Marco Ceccolini di Pesaro che si afferma su 95 concorrenti ed infine a Cantiano la contessa in pressing per i ristori ci sono le ditte che aspettano di avere qualche contributo per poter superare questa fase difficile per la loro attività e questo per il momento è tutto ci ho detto chiudiamo la pagina io vi saluto e vi auguro intanto una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci